Musica Salve a tutti, siamo qui alla scuola Holden per il convegno di aria e autonomia. Siamo in compagnia di Francesca Pavan e Gabriele consigliere di ACMOS. Per iniziare volevamo chiedere innanzitutto a Francesca come il suo lavoro con le dipendenze e soprattutto con le persone che hanno delle dipendenze intacchi le autonomie di questi ultimi. Buongiorno, io sono Francesca Pavan e il lavoro che faccio con la cooperativa Terra Mia è appunto legato all'ambito delle dipendenze, giustamente. Ma noi intendiamo questo ambito in modi molto differenti per questo motivo. In realtà, come parlavamo durante il convegno, l'idea è quella di avere un concetto di dipendenza un po' legato all'ambito della vita in generale. La dipendenza è qualcosa che ci caratterizza tutti come esseri umani. Certo, la dipendenza patologica diventa effettivamente un problema nel momento in cui le persone, rispetto ai rischi che corrono nell'assunzione, per esempio, di sostanze o rispetto ad altri oggetti di dipendenza non riconoscono rischi e limiti che in qualche modo possono essere in parte così limitanti per la propria autonomia. Ogni persona ha dei limiti, ogni persona incappa in alcuni fenomeni di dipendenza che possono essere poi problematici nel momento in cui appunto non si riescono più a gestire. Quindi ogni persona può avere una propria dipendenza più problematica di altre. Grazie mille, invece volevamo chiedere a Gabriele come il lavoro ad ACMUS riesce a sviluppare il concetto di sviluppo e autonomia delle idee che è appunto l'argomento che si è trattato durante la conferenza. Grazie, io sono Gabriele, responsabile del progetto Scooter per ACMUS, membro del consiglio direttivo. Il nostro lavoro come associazione, come movimento, ha l'obiettivo di costruire comunità, cioè sviluppare tutto il rapporto con l'altro, con saperi che da soli si è piccoli, da soli si conta poco e lottare contro l'individualismo sfrenato, contro la solitudine, vuol dire abitare la scuola pubblica, cercare di costruire collettivi scolastici, abitare le parti del territorio più problematiche, stare all'interno delle case popolari per cercare di tessere relazioni, costruire gruppi di educazione alla cittadinanza come palestra di democrazia, come modo per mettere insieme le varie conoscenze e cercare di costruire una coscienza critica, una coscienza politica. Tutto questo è complicato, ma è fondamentale ragionare nel rapporto tra individuo e società. Cioè se noi continuiamo a pensare di poter dare solamente risposte singoli, individuali, a problemi collettivi, societari, questo continuerà a generare gli stessi problemi. Noi pensiamo che solo insieme si possa prendere coscienza abitando quegli spazi del territorio e insieme provando a darci pezzi di risposta. Per me autonomia significa... ci sono tante le autonomie. Qual è il significato politico di autonomia? I giovani sono tanti, gli adulti sono tanti. Come ci mettiamo in rete per capire qual è l'obiettivo di questa autonomia e qual è il prezzo da pagare per raggiungerla? Grazie. Grazie a voi e con questo vi salutiamo dalla scuola Holden e ringraziamo ancora moltissimo Francesca e Gabriele. Il convegno. Grazie a tutti.